Buonasera a tutti voi, ben ritrovati qui su Instagram, sul canale ufficiale, sul nostro account della Federazione Italiana Gioco Handball come sempre all'interno delle stories, è sabato e sabato vuol dire da tre settimane ormai top tips ovvero andiamo un po' ad indagare insieme ai giocatori azzurri sul bello e sulle particolarità, sui consigli dei ruoli della palla a mano su molte specificità di natura tecnica, abbiamo chiacchierato per esempio nei giorni scorsi con Valerio San Paolo per quanto riguarda il ruolo del portiere, poi Martin Sonner per quanto riguarda il ruolo dell'ala ci ha svelato un po' di segreti oggi invece chiacchiereremo e incontreremo Michele Scatar che ci rivelerà un po' di dritte invece sul ruolo del terzino gli do il tempo di collegarsi, do anche a tutti voi il tempo di collegarvi, naturalmente vi ricordo sempre di continuare a seguirci stasera ci sono nuove partite da vedere in modo particolare su Facebook dove trasmetteremo inizieremo a trasmettere anche un po' di partite degli ultimi campionati mondiali, quelli dell'anno scorso, del gennaio 2019 che si sono giocati in Germania e Danimarca, insomma nonostante questa costruzione che ci tiene lontane dalla palla a mano cerchiamo un pochettino di tenervi impegnati, vedo che pian piano il numero di utenti sta salendo vi do un modo di collegarvi ancora un po' prima di andare a pescare Scare, il soprannome in nazionale di Michele Scatar di poter iniziare con lui a chiacchierare un pochettino, vedo che si è collegato anche un pivot doc che da Scatar ha ricevuto tanti palloni, si tratta di Pasquale Maione che a lui ha fatto fare anche tanti gol naturalmente in nazionale eccoci qua ciao Michele ciao Matteo, ciao a tutti ti rubo per la seconda volta un po' di tempo dai sì sì non ci sono problemi guarda, il tempo ce ne abbiamo adesso sei sempre disponibile ci sono tutti e due i tuoi pivot preferiti della nazionale, sia parisini che maione i miei preferiti, anche quasi gli unici con cui ho giocato, sono costantemente è vero saluto anche loro, ciao ciao a tutti, ciao Maio, ciao Pari senti prima di cominciare con le domande, rispetto all'ultima volta è cambiata una cosa è che hai lasciato la tua squadra attuale, giusto? sì sì sì, ufficiale sì, non rimango a Strasburgo l'anno prossimo non si può dire dove vai? anche perché non lo so, sinceramente non lo so ho iniziato a avere qualche contatto e speriamo di risolvere questa faccenda nelle prossime settimane va bene dai, va bene ci fa piacere se tu stai bene va bene così scusa sì 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 dopo non si sa, sinceramente ho iniziato a avere qualche contatto come ti ho detto però non lo so, visto la situazione anche sarà un po' difficile per tutti e vedremo vedremo nelle prossime settimane va bene, va bene allora, ti ho spiegato velocemente come funziona la rubrica sono arrivate un po' di domande da parte di giovanissimi ragazzi che giocano nel tuo stesso ruolo terzino destro o terzino sinistro anche naturalmente è curioso che abbiamo scelto due mancini perché per le ali abbiamo scelto Sonner e per i terzini abbiamo scelto Scatar però è andata così insomma va bene, va bene a voi va bene ha detto Panesini vieni a Istre vedremo, non si sa non si sa, non facciamo mercato non facciamo mercato deve parlare di me dopo ho detto che cercherò sicuramente di restare più vicino alla regione attuale e dopo vedremo non voglio troppo di spostarmi di nuovo fare traslochi fare 500-600 km e più anche certo va bene allora io ti faccio vedere qualche video qualcosa vediamo che cosa ho trovato in giro sono sempre tue azioni da quelle partiamo per fare le domande che riguardano il tuo ruolo allora questi sono una serie di tiri di tiri dalla distanza tiri dei 9 metri, questa è la partita contro la Slovacchia poi ne ho trovati altri e intanto una domanda che è arrivata che secondo me è interessante è come posso nascondere fino all'ultimo momento il tiro al portiere cioè come posso far capire l'angolo dove sto tirando proprio nel momento ultimo possibile ma nascondere il tiro al portiere si può fare col colpo di polso può essere una soluzione dipende anche dal portiere diciamo se legge il braccio facciamo finta di andare tipo se voglio tirare il primo palo di far partire il mio braccio come se facessi finta di andare verso il mio tiro verso il secondo e all'ultimo momento chiudere con il polso al primo facendo partire il portiere e così viceversa anche se vorrei tirare secondo potrei fare finta di fare finta di partire il braccio verso il primo e chiudere con il polso sul secondo palo è un po' il colpo di polso anche può essere una soluzione dopo dipende se c'è il muro se c'è il muro puoi giocare con il muro andare attorno, sopra dipende, dipende dalle situazioni in cui ci troviamo allora siccome questa del muro era un'altra domanda intanto c'era sul polso tu alleni il polso in qualche modo è una cosa che viene tirando naturalmente o ci sono delle cose che magari si possono fare dopo ci sono esercizi vari sicuramente si può prendere i manubri e fare tipo sollevare con i manubri solo con il polso tenendo tutto il braccio io ho una pallina che si chiama Powerball che me l'ha data l'ubo flego che la mostra perché proprio nella camera accanto da 15 anni quando sono arrivato a Trieste me l'ha data e ce l'ho ancora è questa qui ok ed è molto pratica per il polso anche lo utilizzo soprattutto in questo periodo ne faccio molta e molto si stringe no in effetti fa tipo si deve far girare la pallina in teoria c'è un tipo uno spago però io la faccio con te la mano e dentro fa tipo una reazione centrifuga e c'è sempre più tipo girandola hai l'impressione che diventa sempre più pesante e fa lavorare molto il polso questo è anche secondo me si dovrebbe trovare tipo anche su Amo Powerball si chiama dopo adesso ce ne sono questa è la vecchia modello deve essere ti ho detto più di 15 anni fa me l'ha data però adesso ci sono anche quelle che contano i giri che sono più pesanti anche è buzzo buzzo sta domande è collegato anche vedo c'è buzzamini anche in giro io me lo farò bene leggi 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 no no niente niente ho detto come bisogna fare per diventare forti come me no no anche lui sta bene lavora molto è bravo anche queste nuove generazioni ho detto lavorano molto molto in palestra molto sulla fisicità perciò sono sono molto contento che abbiamo una generazione come ho detto l'ultima volta che sta arrivando è molto molto forte assolutamente io sto aspettando di intervistarlo dall'inizio della quarantena spero che sì 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 mi ha detto che che non ha una buona connessione è timido è timido è timido no no prima o poi gli tocca ok invece per quanto riguarda il muro fammi ritrovare la domanda quali sono le difficoltà quando fai un tiro al lato del muro e come le risolvi ma è difficoltà a me è una cosa che mi piace di più spesso perché se c'è una persona al muro cerco di andare spesso attorno dipende se anche dell'elevazione se voglio fare un tiro veloce faccio su un primo passo e cerco di dargli sopra se rimango in aria devo andare attorno e dopo dipende dalla posizione dove mi trovo cerco di fare un tiro spesso al lato destro del difensore e cerco di aggirarlo e dopo dipende dal portiere anche dove mi piace fare dei tiri sotto le gambe del portiere praticamente anche se vado dal lato destro come ti ho detto di girare rigirare la palla al primo palo e dopo riguarda anche un po' il portiere però una cosa che mi piace è farlo perché so che i portieri sono spesso messi lavorano spesso con il muro e se riesci a girarlo un po' metti difficoltà tutti e due il difensore che è il portiere ok io selezionando un po' le azioni dei tuoi tiri questo era un video già bello e tagliato che ho trovato su internet questi gol che fanno parte probabilmente del campionato francese e ho visto tipologie chiaramente di tiro diverso con tempi diversi anche sul salto e intanto ho visto alcuni tiri in cui tu parti quasi da fermo cioè tu hai il pallone in mano lo ricevi dal centrale quasi palleggi e ti dai la spinta da solo è una cosa che te la puoi permettere tu perché sei un giocatore di livello internazionale o che allenandola consigli anche magari a un ragazzo giovane a un mancino ma sinceramente se parto in palleggio l'ha visto su questo video qui no su questo no che parti in palleggio in senso che quando parti in palleggio subito in palleggio è dura anche andare a tirare dopo lo sconsiglio a tutti sinceramente devi prendere un po' di slancio e dopo se parti con un po' di slancio fai i due e tre passi più un palleggio dietro visto che prendi velocità puoi anche andare a tirare però partendo subito a palleggio è molto molto dura la vedo molto dura perciò una cosa che sconsiglio a me piace più prendere la palla in corsa su due tre passi o prenderla quando so che il centrale me la dà velocemente di prendere sul primo passo come in questa azione qui che vediamo adesso prendere sul primo passo e tirare qui è un po' di più sono due passi una cosa che preferisco di più quindi saper giocare probabilmente sul passo zero o sul primo passo può essere utile dopo dipende anche il timing che hai con il tuo centrale quando inizi a conoscere già i timing con il centrale è una cosa molto più facile da fare però una cosa da allenare soprattutto da fare all'allenamento perché mi ricordo questa è una cosa che ho iniziato a impararmi il settimio perché dicevo che è una cosa nel futuro il settimio Massotti che mi ricordo ho conservato le prime stage nazionali finivano gli anamenti e dopo mi lasciava tirare così ancora per dieci minuti facendomi fare tiro su passo zero il primo passo passo zero è una cosa che è molto molto utile Campana ha detto che ti stima anche come giocatore di golf io vedo che fai dei numeri clamorosi tra l'altro ho visto che sei finito pure sui giornali da qualche parte eh sì sì anche il giornalista qui visto che non c'è sport in giro ha detto uno che fa palla a mano che fa anche golf in giardino devo fare l'intervista è giusto è giusto ci sta grazie anche saluto a Davide ciao Davide Campana che è stato anche un amico anche un collega nazionale da quando era dei giovanili assolutamente compagni dei giovanili invece quando arrivi al tiro da un incrocio quindi ricevi un incrocio dal centrale quanto è importante la distanza col centrale quanto conta se non c'è differenza tra un incrocio più largo e un incrocio più stretto o se è necessario stare più vicino al centrale che ti porta all'incrocio diciamo diciamo che sarebbe meglio essere più vicini possibile soprattutto se il centrale dopo ti può fare un blocco per trattenere un po' il difensore sarebbe molto meglio farlo il più avvicinato possibile perché così il centrale non può tenere il blocco su un difensore a lungo perciò prenderla subito dopo che te l'ha data e il difensore non ha il tempo a uscire dopo si può anche farlo con l'incrocio e con distanza più lunga però dopo fai poi a girare il difensore è difficile andare a tirare subito dietro però diciamo si possono fare tutte e due ci sono due tipologie anche più tipologie però io preferisco sinceramente una dove c'è il centrale che mi blocca il numero due o il numero tre il difensore e arrivo subito dietro sul primo passo e tirare subito sul primo passo senti ma in partita sono di più gli incroci sui quali vi mettete d'accordo o di più quelli che nascono spontaneamente soprattutto come fai a capire quando devi incrociare o quando devi stare largo e entrare tra prima e secondo dipende dipende dopo ti dico è importante il feeling che hai con il centrale è una cosa che si crea forza di fare allenamenti e perciò non saprei risponderti a volte i gioci sono organizzati a volte arrivano spontanei diciamo ecco non è però la più parte è qualcosa che è già uno schema che è già stato chiamato e rispondiamo diciamo facciamo qualcosa che è stato già organizzato ok questi invece sono degli uno contro uno ne ho trovati alcuni tanta tanta roba eh soprattutto all'esterno soprattutto all'esterno è una specialità diciamo specialità più l'uno l'uno contro uno all'esterno questi come che consigli dai questa tantissima roba questo qua è questa diciamo che mi piace molto è una cosa che ho imparato da Alberto Entreros che aveva questa finta qui con finta di tiro dal lato e passava una o due volte a partita e spesso cercavo di riprodurla all'allenamento perciò anche quello è molto importante diciamo di avere delle persone che tecnicamente sono molto forti allenamento e cercare di produrre i loro movimenti anche molto interessanti di provarli continuamente probabilmente certo certo sì 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 assolutamente sto guardando anche un po' le immagini perché ogni tanto le cambio perciò cose molto interessanti questa è più questa è più una furbata furbata visto che non facevano fallo e sono passato di questo sì invece questo è verso l'esterno sì è esterno quello un po' un classico il mio classico che che faccio spesso diciamo è tuo perché lo senti tuo è preferibile che un terzino vada verso l'esterno tra primo e secondo ma non è nel senso è una cosa è un movimento che che ho da quasi da sempre questo l'uno contro l'uno esterno dopo non è che si preferisce o non si preferisce se passi uno contro uno sia al centro o all'esterno va bene se hai un tiro da solo a sei metri e Luigi Di Marcello dice sempre che chi fa gol ha sempre ragione infatti non si può dire troppo non si può dire anche a qualcuno che ha segnato perciò e invece come posizione di partenza dell'attacco che larghezza consigli proprio nel funzionamento dei tre terzini quindi nel tuo ruolo specifico di terzino rispetto io mi baso rispetto ai 9 metri cerco di essere abbastanza largo quasi a linea 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 di non di fondo linea di linea di laterale laterale e dopo a prendere 2-3 metri massimo di sarebbe la posizione ottimale tipo da 2-3 metri dalle linee dei 9 diciamo quella è la posizione ideale per iniziare l'attacco perché si allarga la difesa il numero 2 ha spesso la tendenza di seguire l'attaccante perciò si allarga molto di più la difesa se ci mettiamo in questa posizione abbastanza larghi linea laterale a 2-3 metri dal 9 ok stavo rivedendo perché questo pure è un bel gol che altro vediamo le domande aspetta perché non le ricordo tutte come si può allenare il cambio di direzione beh l'hai detto tu provandolo e riprovandolo poi a fine ma sì dopo io mi ricordo che all'inizio quando ero veramente bambino diciamo ai primi anni ti dicono sempre allenatori prenditi una sedia e fai uno contro uno contro la sedia e inizi a prenderti l'abitudine dopo adesso ci sono come si chiama che tutti praticamente hanno la la scaletta tipo la scaletta tipo la scala che si mette per terra non so come si chiama scusatemi dove si può possono si può utilizzare molto i cambi di posizione il cambio il cambio di ritmo i passi perciò ci sono molti metodi però io dico spesso io ho fatto anche con Matteo il video dove gli metto la sedia per esempio e fai finta contro una sedia anche se è una sedia però impari a il come posso dire il a superare l'ostacco l'ostacco si veramente gli appoggi diciamo si gli appoggi ecco dei piedi come utilizzare i piedi cose molto semplici però dopo che aiutano molto c'è qualche trucchettino sull'uno contro uno non so aiutarsi col braccio per spingere l'avversario qualche qualche cosa dopo ci sono anche trucchetti del genere però dopo spesso ci si può posizionare rispetto all'uno contro uno se vuoi andare più all'esterno puoi metterti già un po' più io rispetto parlando da mancino voglio andare all'esterno posso posizionare un po' più a destra del del difensore della mia destra e cercando di fare una finta verso l'interno però ho già un po' di vantaggio e puoi aiutare come in questo caso qui sono già a destra del difensore faccio finta di andare verso il centro lui può pensare un po' che vada verso il centro e vai e continui verso l'esterno ci sono dei trucchettini così anche se vuoi andare al centro io proporrerei di andare mettersi più penso come un mancino mettersi più alla sinistra fare finta di andare verso l'esterno e vai comunque verso il centro dopo dipende anche come sono organizzate le difese se certe difese si mettono d'accordo su un giocatore può andarlo piuttosto all'esterno al centro dopo dipende dalle varie situazioni che troviamo in partita per l'approccio alla difesa ci sono dei consigli nei primi minuti magari tu vai un po' di più in uno contro uno per capire come reagisce il difensore come ci si approccia soprattutto magari pensa di parlare a ragazzi che non hanno la possibilità di vedere i video delle partite della squadra giovanile che affronteranno il giorno dopo o cose così ma dipende sì se mi dici questa situazione qui io ho visto che in Francia di solito i primi dieci minuti le difese giocano veramente forte e so che cercano di intimidire l'avversario a volte aspetto un po' prima di fare i primi contro uno perché visto con l'età inizio a avere meno forza so che in quei primi dieci minuti anche del secondo tempo forse andranno più forti e studio un po' piuttosto all'avversario prima di andare a uno contro uno dopo io non sono sicuramente il giocatore di uno contro uno più forte però non cerco di cerco di piuttosto di essere di guardare e studiarmi l'avversario nei primi minuti ok sì capire anche la reazione cosa mi lascia di più cosa mi offre cosa non mi offre cosa si può fare dopo i primi dieci minuti diciamo di studio dell'avversario inizi già a proporre qualcosa altro collaborazioni col pivot e diranno i pivot bisogna chiederlo a Maio e a Andrea io sinceramente lo sanno anche loro non è che do molte palle al pivot però è perché è una cosa che direi io che mi è stata inculcata male è una cosa che non ha lavorato bene secondo me quando ero abbastanza giovane e perciò non è che non voglio darla è più perché ho paura di perdere la palla diciamo perciò dopo se ci mettiamo veramente d'accordo mi piace più mettermi d'accordo con qualcuno con il pivot se dobbiamo giocare uno contro uno o due contro due per dargli la palla perché di solito lascio il centrale a organizzare il gioco e non prendo non prendo iniziative su queste su queste su queste azioni così diciamo con il pivot dopo se è veramente libero se è veramente libero potrei anche non è un problema però non è nessuno è il miglior assist come dice Andrea però ok qualche volta lo vedo l'anno scorso abbiamo giocato insieme all'inizio lo dava dopo un po' meno però dipende dopo c'erano altri giocatori che giocavano molto meglio con lui e lascio giocare come nazionale c'è Dejan che gli piace fare l'azione che parlavano con Maio diciamo così e lascio quelli che sono più diciamo hanno più facilità di giocare col pivot che ti piace di più dirà sì diciamo di sì onestamente sì però anche quella è la cosa che so fare meglio diciamo senti come si supera psicologicamente sbagli il primo tiro tu sei un giocatore che tira tanto si prende parecchi tiri durante le partite di solito può succedere beh sì succede sì gli ultimi anni un po' meno trovo però è vero che all'inizio potevo fare molte partite dove dove tiravo molto adesso ultimamente meno come sto dicendo però i primi i primi tiri sono importanti però non vuol dire che se sbagli il primo la partita è finita devi dirti che la partita dura 60 minuti che il portiere o qualcun altro ha fatto una buona parata non devi mai demoralizzarti diciamo sono sicuro è una cosa che può succedere però non è grave se sbagli i primi i primi due tre due due va bene il terzo se inizi a sbagliare anche il terzo è già più dura secondo me il giallenatore si cambia in teoria però è più dura dopo rimettati dietro però devi anche capire la giornata vedi io sinceramente in questi anni negli ultimi anni capisco già se è una giornata più buona meno buona se devo forzare se vedi che il tiro va ci provi dopo se vedi che non va cerchi di veramente di regolarti e cercare più un tiro forse uno contro uno verso sei metri pulito e sì bisogna anche saper lavorare gestirsi diciamo gestirsi ok l'ultima cosa che hanno chiesto che la chiedono a tutti questa deve essere un problema diffuso esercizi e consigli per saltare più in alto ho già sentito no noi sinceramente quest'anno abbiamo avuto un buon preparatore atletico ho visto che abbiamo nel senso anch'io mi sentivo che di saltare è meglio dopo di più non lo so abbiamo fatto degli esercizi diciamo noi abbiamo fatto tipo fare squat con un non troppo non troppo pesante non con esagerato tipo 70 80 90 kg di squat fai qualche ripetizione dopo fai fai quattro salti partendo dallo squat facendo quattro salti senza pesi dopo riprendi quattro cinque salti con dei manubri del stesso movimento e dopo ci prendevano elastico e praticamente saltavamo prendendoci per un elastico per saltare per alleggerirci tipo peso meno del nostro corpo e questi quattro esercizi fatti in catena per tre quattro serie ho trovato che funzionava molto bene sul sull'elevazione diciamo sono già tanco no ma un buon esercizio dopo sicuramente se vuoi saltare la gente che vuole saltare tanto bisogna lavorare molto sulle gambe con pesi e e quello birosagnare che bella Buzzamini perché salta molto e amoretti e quella gente lì no tanto Buzzamini non scappa perché prima o poi mi tocca tornerò in settimana a marcarlo stretto grazie Scare grazie mille niente grazie a te buona serata e buona serata a tutti voi ritroverete questa intervista su facebook e su youtube già nella giornata di domani ciao Scare buona palamara ciao buona serata a tutti ciao ciao